Il quaderno pastorale non è altro che la prosecuzione dell'itinerario iniziato l'anno scorso insieme ai laici e ai presbiteri della nostra diocesi di Sassari per approfondire le tematiche di impegno pastorale, culturale e spirituale nel nostro territorio. Il quaderno verrà presentato subito dopo le celebrazioni pasquali, anzitutto al presbiterio e poi a tutta la comunità. Si intende offrire uno strumento non per proporre un lavoro già preconfezionato e quindi distogliere dall'impegno personale sia le singole aggregazioni laicali, la società e le realtà pastorali della diocesi o i singoli presbiteri, quanto piuttosto un testo confezionato insieme all'equip di collaboratori per sollecitare e suscitare la partecipazione, l'impegno e il convergimento da parte dei singoli. Quindi non è un libro da leggere, quanto piuttosto uno strumento da tradurre con creatività negli ambienti pastorali o anche sociali della nostra diocesi. La Settimana Santa è il culmine dell'anno liturgico, di un itinerario di fede e di vita. Desidero in questa circostanza di presentazione delle celebrazioni della Settimana Santa rivolgere proprio un invito ai sassaresi, ma non solo a coloro che si riconoscono nella fede cristiana, anche a chi si riconosce nella professione laica della vita, a riconoscere in questo appuntamento un'opportunità per riflettere sul mistero dell'esistenza, sul senso della vita, sui valori che conducono la persona umana. Perciò sarei ben lieto che nelle celebrazioni che si terranno in cattedrale, anche coloro che non si riconoscono nella fede cristiana, coloro che sono in ricerca, possano trovare un punto di riferimento per approfondire la loro ricerca, la ricerca di senso. Evidentemente la Settimana Santa è la celebrazione del mistero di Cristo, verbo di Dio che fa tosicarne e dona a se stesso con un amore senza limiti e si proclama il mistero della risurrezione, cioè il senso ultimo della vita, che tutto non termina nella vita terrena, ma che ha un suo sviluppo progressivo nella vita in Cristo, in Dio. Mi piace sottolineare in questo tempo la dimensione anche laica che Fabrizio di Andrè dava alle celebrazioni della Settimana Santa in alcuni suoi testi. Egli riconosceva in questi testi, penso alle narrazioni della Passione, dove Maria ha un ruolo molto centrale, la sua attenzione verso i deboli, verso gli ultimi, verso i poveri, i fragili, verso le diversità della storia. E quindi De Andrè, che pur non si riconosceva esplicitamente nella spiritualità cristiana, comunque sottolineava che le celebrazioni della Settimana Santa sono una sorta di raffigurazione di spiritualità e umanità. Ecco, il mio invito è che possiamo trovare in questo appuntamento non soltanto qualcosa di folcloristico e quindi di rievocazione rappresentativa vuota del passato, ma possiamo trovare l'uomo in ricerca, l'uomo che ha trovato Dio, quindi il cristiano, il credente, il battezzato, chi vive la vita della Chiesa e che quindi è chiamato a trovare in queste circostanze un momento di priorità per la celebrazione del mistero di Cristo, ma possiamo anche vivere l'esperienza della ricerca tra spiritualità e umanità, queste due dimensioni che oggi mi sembrano tanto importanti e tanto necessarie.